Fiocchi Box prefabbricati La filosofia produttiva della Fiocchi Box è basata sulla completa soddisfazione del cliente. La Fiocchi Box prefabbricati è un'azienda operante da oltre 30 anni nel settore delle strutture prefabbricate. Fiocchi Box si occupa della progettazione, della produzione, della vendita e del noleggio di prefabbricati chiavi in mano per campi sportivi e da lavoro, capannoni ad uso industriale, agricolo e rimessaggio, strutture ad uso uffici, mense e spogliatoi, uffici interni e suppalcature per strutture industriali, casette prefabbricate, coibentate, carpenterie metalliche, porte basculanti, pareti divisorie, monoblocchi prefabbricati, box container, box garage in lamiera e in fibro cemento ecologico, servizi igienici tradizionali e chimici a riciclo chiuso in acciaio inox. Grazie per la visione!